cari amici del tubo ciao a tutti e oggi è sabato pensate un po sabato 30 marzo 2024 che domani è domenica 31 marzo e della santa pasqua ok la santa pasqua quindi sono qui per augurare a tutti gli amici che mi seguono su questo canale del tubo una santa e buona pasqua ok di trascorrerla serena soprattutto poi c'è anche la pasquetta quindi sono due giorni che potete passare insieme ad amici parenti con la gente giusta e con le persone che vi vogliono bene ok anche io naturalmente sono qui che faccio sempre video ironici sempre video scherzosi sempre video così quello che però quando si deve parlare di serietà ecco mi sono vestita pure bene vedete su luca sta maglietta scusate sta maglietta non c'entra niente ma ho messo di più un abbigliamento pasquale ok potevo mettere guardate vedete perché questa va levata e qua si vede tutta la scollatura ok questa va poi abbassata così si vede tutta la scollatura ma siccome ancora dico pure che fuori ci abbiamo 30 gradi in sicilia oggi come giorno 30 marzo signori miei rinca c'è friggio quindi permettete che io mi commoglio sempre poi stare coperti ok sta sempre ok quello che vi raccomando naturalmente per la pasquetta che ci sono le persone che vanno fuori si riuniscono in questi tavoli tavoloni in campagna si cercano questi angolini graziosi per poter condividere insieme con gli amici o parenti per poter condividere il cibo l'allegria di lo stare insieme vi ricordo sempre il grandissimo e attesissimo ritorno a casa ok quindi vi raccomando sempre prudenza in tutte cose soprattutto quando noi siamo fuori ok signore mio quanto ne passavo con la mia sinca miglia che voi non potete mai immaginare ok ne passavo tanti io andavo la mia sinca miglia mi ha portato in tutti i posti del mondo ci dico io però sempre nei dintorni di palermo ho capito palermo catania messina ecco tutti questi punti del camare quanto ha girato di quanti anni fa avesse potuto girare tutto il mondo ok io non sono assolutamente in condizioni se non l'avesse fatto di andarmene in campagna perché le mie condizioni non me lo permettono vedete non posso ancora aggagnare va bene perché cosa si fa in campagna in montagna per chi fa la scampagnata le arrostute le arrostite le arrustitine arrustuta ce le dicevamo noi qua in sicilia arrustuta qua si chiama a fuinnaciella va bene a fuinnaciella o uluce uluce è il fuoco è il carbone quando è pronto dice addumai su luce si fa da così cose io che amo cose tradizionali che amo e che piace fare a me non agli uomini quando io andavo in campagna lo facevo io quello doveva essere sbampare e tagliare a tutte le auge che cosa stavano per fare va bene quindi questo quest'anno non lo posso fare perché naturalmente se si va lì per mangiare io non potrei mangiare tanto bene ok ma ancora per pochi giorni perché signori miei mi sono sentita con con dent che dente che manco posso parlare dente expert del dottor giovan battista caputo di palermo e quindi ci abbiamo appuntamento per la prossima settimana lui sta facendo veramente di tutto con la sua massima professionalità per aggiustarmi questa bocca e poi voi lo vedrete ok perché poi quando passerà pasqua poi c'è il 25 aprile se non vado che è pure festa siamo in campagna allora proverò ad andarci clienti va bene vediamo un pochettino cosa posso capito perché io poi tra l'altro a me piace sgranocchiare sempre e senza denti non si può sgranocchiare ok così si può tutte queste cose quindi non non è che perché io sto dentro gli altri giusto io sono felicissima felicissima perché vedete delle cose che succedono delle cose che è ma che cosa c'è nella vita un pochettino di divertimento ma anche non c'è bisogno di fare grandi mangiate anche una bella insalatuna mi sa già ridere sorridere poi da me quando li faccio io c'è lo stereo c'è tutto c'è tutto signorino allora poi dove andiamo noi è sempre vuoto perché la gente passa se se pulisse filmare ci guarda e se ne va non capisco perché ci ha detto ma guardate abbiamo dietro da noi tanto di quello spazio ancora tanti di quei tavoli liberi perché si fermano e non non si mettono mai dove siamo noi e o vanno più avanti o se ne vanno direttamente e perché c'è da insordire con noi perché la musica è tipo concerto capito la musica è tipo concerto noi quando dobbiamo dire passaci passami il sale che lo devo mettere lì con l'abbiale a così ci facciamo tipo usare e chiedi perché non ci ascoltiamo facciamo sempre così si arrostisce così la musica nel sangue così si va quindi una volta invece una persona si è fermata con la macchina e ci ha fatto col dito allora al mio alt così si stacca la musica e quando si stacca la musica si stacca pure con l'eco di quanto è alta ci ho detto prego mi dica forse volevano un'informazione della zona volevano sapere magari qualcosa ci ho detto prego mi dica cosa possiamo fare per lei io mi dico già era mangiata abbia mangiato già la salsa cibo ancora col forchettone con la salsiccia in mano così tutto prego mi dica mi ha guardato dice senta io vi volevo dire una piccola cosa cioè tu si dice io sto a due chilometri di distanza dice lo vedete dietro quell'albero sopra quella montagna cioè tu sì sì lo vedo lo vedo dice la vedete quella villettina là che c'è là cioè tu sì certo che la vedo dice noi abitiamo là cioè tu sì ma ci vuole un binocolo per belletto ma prego mi dica il problema qual è ha bisogno di qualcosa cioè sì che spegnete sta musica dice ci arriva fino là sotto a noi arriva se non possiamo neanche possiamo parlare pure voi dice mai un modo di fare una scampagnata tipo concerto di piazza sì perché signori mie allora ognuno di noi ha le proprie casse professionali ma casse quelli che quelli che usano i cantanti nei concerti botte di cassettoni così con altri parlanti tanti quindi quando noi ci organizzavamo per la campagna si diceva ognuno porta le proprie casse quindi io portavo quelle mie che erano due che diputava che erano due che diputava all'unione di quanto erano venivano fuori una trentina di casse di altoparlanti che venivano collegate tutti a cascata tutti a tipo concerti signori miei ci avete aiuto mai in un concerto che vedete quelle casse in alto messe così con le catene che trasmettono la musica a così siamo l'altro noi non abbiamo le catene ma li mettiamo sopra gli alberi una ca una c'è proprio certo noi quello che possiamo garantire è abbassare un po il volume dice sì dice il divertimento si ci vuole signori però dice io vi devo dire anche una piccola cosa certo prego cercano altre parole dice già ci avevamo un molto consapevole allora basta se stacca la musica ci vuole questo 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 rispetto massimo rispetto pigliamo tutti i corsi e se ne siamo andati in un altro posto si stavamo senza musica signori miei ma che dobbiamo fare queste sono le cose belle che contano nella vita queste sono le cose il divertimento il divertirsi lo stare insieme soprattutto poi là dove andiamo noi è molto bello ci sono vengono pure gli animali passano le mucche capito mamma mia io una volta passò una mucca io la volevo mungere e disse mi pigli un po di latte romane ma te macchi me le metto un capo oppa adesso mi spostava la gamba assura chissà non ne fosse io e c'era dietro il padrone e mi ha detto signora non si avvicini così tanto dice ma cosa voleva fare non era così tanto per vedere ci ho detto io non ho mai munto una mucca dice signora se vuole ce lo faccio fare io ho detto ma lei ne vende latte dice no latte non ne vengo dice però signora se lei vuole è raro trovare qua nella campagna gli animali il latte fresco dice signora un attimo dice c'era una bottiglia cioè i bottiglietti di vino ne ho buttato l'ho scambiato che l'ho messo in un altro posto l'ho sciacquata c'era e mi ha detto succo su i latte ci disse quanto quanto le devo e dice signora niente niente non esiste lasciasse i mucchi pascolare e lei cammina con me dice dove signora venisse l'ho portato là che c'era andata da tavola c'era a casa dice un veneredeo un veneredeo c'era milenciane babbaluce sassi sarkainne sgombro pesce di qua pesce di la frutta di ogni genere tutto buttato la varie bibite sassi toccone altre sassi toccone altre telefonò alla moglie e ci disse guarda che questa sera io tardo ci sa anziché dire che tardi vai a prendere tua moglie e la porti il cavolo quanto mangiare il cecilis e mangiare con un altro non se l'ha fatto dire due volte se mio non spuntò solo con sua mogliere però spuntò sua mogliere e andavo con i due carici che erano i nepoti che erano rinze comunque spuntarono tutti in un attimo se devorare poi io mi chiamavo e disse dove si dice prego se ti sei divertito hai mangiato bene grazie si dice ma tu pensi che a me due litri di latte mi bastano? si dice vedi se tu hai pure qualche fascetta ricotta un po' di tuma un po' di formaggio fresco che loro gli fanno si dice come sei andato a casa a prendere tua moglie vai a casa e pigli queste cose e si dice poi non è che può essere che tanto noi ci vediamo spesso qua i cosi giuste io rincia e mi pittò una forma di tuma e tuma è quel formaggio che siamo una cosa di ricotta un coso di cascio cavallo e scusa ti abbia fottuto tutte cose signori miei ok e quindi queste erano i miei divertimenti e mancando questo quindi mancando questi mancando io queste cose non li posso fare non li posso io qualche volta vediamo in un prossimo video che faccio vi faccio vedere una delle casse che noi ci portiamo una io me ne ho detto due ma ci riunivamo ora non c'è piacere una volta ci sono andata con i miei figli e quindi se ognuno porta le proprie casse abbiamo raccolto solo otto casse che abbiamo a fare otto casse signore da noi pure le pecorelle che pascolavano ballavano le galline vedevano un burulà così dalla musica potente che c'era e che musica che musica noi partivamo prima di arrostire con i denti tipo marito e marito fidanzati con i denti perché ancora dovevamo carburare ancora dovevamo mangiare alla prima mangiata e al primo biccerino si passava alla musica tipo quella della febbre della sabato sera cintela cintela a a a si passava così all'altra scennuta le carne e altra bebutina si passava naturalmente poi all'esagerazione quella a si a si a me mi gusta poi quando si era già soddisfatti di tutto quando il mangiare rimaneva nel tavolo tutto che mi era nel tavolo allora la musica o c'era o non c'era per noi non faceva più caso perché noi ballavamo sempre che bei tempi che bei tempi che devono ritornare ritorneranno perché io questi tempi li farò ritornare buona pasqua a tutti voi che mi volete bene che mi stimate e che mi seguite buona pasqua di cuore ok grazie alla prossima ciao